ciao a tutti in questo video andremo a vedere le espressioni algebriche impareremo a vedere che le lettere sono una parte importante della matematica non ci sono solamente numeri simboli ma spesso incontriamo pensiamo alla risoluzione di un'equazione di primo di secondo grado ma anche la risoluzione di un sistema le incontriamo quindi le lettere e bisogna imparare un po' familiarizzare andremo a vedere quindi le espressioni algebriche la differenza tra espressioni numeriche letterali e come possono essere utilizzate le lettere quindi pareremo un po' la differenza tra variabili costanti e incognite ma andiamo subito al video eccoci con le nostre espressioni algebriche le lettere nella matematica allora iniziamo subito vedere un po' la differenza tra espressioni numeriche e espressioni letterali allora le espressioni numeriche hanno solo numeri quelle letterali lo dice la parola oltre i numeri hanno anche le lettere vediamo alcuni esempi espressioni numerica un mezzo più radice quadrata di 5 più radice quarta di 3 meno 2 elevato a 0 vediamo che all'interno ci sono solamente numeri e simboli abbiamo una frazione abbiamo delle radici una radice quadrata e una radice quarta e abbiamo la potenza questa è un'espressione numerica perché al proprio interno ci sono solamente numeri oltre i simboli in questo caso del più e del meno un altro esempio di espressione numerica è questa logaritmo in base 10 di mille più coseno di 30 gradi meno logaritmo in base 3 di 9 più logaritmo naturale di 1 più e elevato meno 2 allora questa espressione numerica contiene un logaritmo decimale il coseno di 30 quindi vediamo questa funzione trigonometrica poi abbiamo logaritmo in base 3 il logaritmo naturale quindi logaritmo in base e vedremo successivamente cos'è nella schermata successiva il numero e lo anticipo è il numero di nepero o di eulero per finire abbiamo questa e elevata meno 2 questo numero di eulero o di nepero elevato meno 2 che è una potenza con base e ed esponente negativo quindi questi due sono esempi di espressioni numeriche vediamo che all'interno ci sono numeri di diverso tipo ma sono solo numeri quando è che invece abbiamo le espressioni letterali quando compaiono numeri e lettere esempio 2x meno 3x al quadrato è un'espressione letterale la lettera che compare è la x qua abbiamo il termine di primo grado qua abbiamo un termine di secondo grado questa meno b più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 4ac fratto 2a è un'espressione letterale è la ben nota formula per calcolare le radici delle equazioni di secondo grado quello qua all'interno b alla seconda meno 4ac prende il nome di discriminante dell'equazione di secondo grado andiamo avanti dopo aver visto la differenza tra espressioni numeriche nelle quali compaiono solo numeri ed espressioni letterali numeri e lettere cerchiamo di capire un po di più il tipo di lettera che può comparire nella matematica cioè noi possiamo avere delle incognite delle costanti e delle variabili andiamo un po vedere quali sono le differenze iniziamo dalle incognite l'incognita lo dice la parola stessa è una lettera che non è nota è incognita deve essere determinata risolvendo o l'equazione o per esempio il sistema di equazioni qua ci sono questi tre esempi 4x meno 3x uguale a 2 è un'equazione di primo grado dovremo risolverla per determinare il valore di x x è l'incognita della nostra equazione questo secondo esempio abbiamo x al quadrato meno x uguale a meno 6 questa è un'equazione di secondo grado l'incognita è la x la dovremo risolvere con gli opportuni metodi per determinare il valore della radice o soluzione o i valori questo terzo esempio è un sistema di equazioni questo qua è un sistema di due equazioni x meno y uguale a 0 meno y più x uguale a 2 in due incognite x y quindi in queste due equazioni abbiamo l'incognita x qua in questo sistema le incognite sono due x y e dovremo determinarle vediamo adesso cosa intendiamo per costante quando parliamo di costante in matematica ci riferiamo sempre a una lettera che però ha un valore fisso non varia esempio il pi greco il ben noto pi greco 3,141 con una serie infinita di numeri lo possiamo approssimare per i calcoli pratici 3,14 viene utilizzato per esempio per calcolare la lunghezza della circonferenza del cerchio che è uguale a 2 pi greco per r dove r è il raggio del cerchio l'area è uguale a pi greco a raggio alla seconda oppure possiamo avere come a costante ancora in matematica il numero di eulero ho detto anche il numero di nepero che è uguale a 2,718 più altre cifre dove troviamo il numero di nepero? lo troviamo per esempio nella funzione esponenziale y uguale a e di x vediamo x come esponente questa è la funzione esponenziale la base è il numero di nepero vediamo un ultimo caso possibile che si può presentare che è la variabile la variabile è una lettera che assume dei valori non dice la parola variabili cerchiamo di capire meglio qua ci sono alcuni esempi l'area del rettangolo sappiamo che si calcola con b per h prodotto delle due dimensioni il volume del cilindro è uguale a pi greco raggio alla seconda per l con l lunghezza del cilindro e r raggio dal cilindro la superficie di una sfera è uguale a 4 pi greco raggio alla seconda con r raggio dalla sfera il volume di un cono è uguale a pi greco raggio alla seconda per h fratto 3 r è il raggio h è l'altezza del cono quindi vediamo sia in questa formula di geometria piana che in queste tre formule di geometria solida possiamo attribuire il valore che vogliamo alle variabili b h per esempio per trovare l'area o qua l lunghezza del cilindro per trovare il volume del cilindro quindi le variabili sono lettere in matematica che assumono dei valori variabili per determinare altre grandezze come in questo caso l'area, il volume o la superficie della sfera o il volume del cono abbiamo visto l'utilizzo delle lettere in matematica abbiamo capito la differenza tra espressioni algebriche numeriche o letterali e abbiamo visto anche la diversità tra le variabili, le costanti e le incognite iniziamo quindi a capire l'importanza delle lettere in matematica io come sempre ti ringrazio per l'attenzione ti invito a lasciare un like se il video ti è piaciuto ti è stato utile iscriviti al mio canale per avere le notifiche attiva la campanella ti ringrazio e un saluto ciao ciao